Io sono Ivan Cavarero dell'RSU dell'Agnesi. In questa giornata, qui è venuto Matteo Salvini e altri esponenti politici, noi come lavoratori dell'Agnesi siamo contenti che ogni esponente politico venga a dare il suo contributo per la nostra avvertenza. Però questo non deve essere una passerella elettorale perché la nostra avvertenza è iniziata già più di un anno fa e penso che i lavoratori dell'Agnesi e i cittadini di Imperia sappiano benissimo riconoscere chi è stato a nostro fianco dal primo giorno della nostra avvertenza e da altri che vogliono fare solo passerella elettorale. Ci sono state delle manifestazioni a Matteo Salvini? Sono state fatte delle contestazioni a Matteo Salvini, certo. Non è il massimo dell'espressione della democrazia, però diciamo che le dichiarazioni di Salvini sono abbastanza provocatorie e lasciano spazio a delle reazioni magari a volte scomposte.